Un buongiorno a tutti gli utenti, un benvenuto al consueto appuntamento con Piana Stampa, la segna stampa di Inquiette Notizie. Oggi, lunedì 15 luglio, cominciamo sfogliando le pagine del Quotidino del Sud, che titola Ho chiuto la mia sfida e sul turismo. Il sindaco di Cosenza va avanti con il suo progetto in vista delle regionali. L'obiettivo? Portare in Calabria 5 milioni di stranieri e finanziare le eccellenze. Il patrimonio culturale c'è, adesso dobbiamo portare le persone all'interno del Quotidiano. Le case dei boss a donne vittime di violenza erano beni confiscati alla mafia. Il report in Calabria, solo due le case, rifugio, la dichiarazione, la vendita ai privati e un'ipotesi residuale. Le violenze vengono al 75% dei casi dai partner o dagli ex, il 9% dai familiari. A Polistina, incidenti all'alba, feriti sei giovani, rientravano dopo una nottata in discoteca, viaggiavano sulla stessa auto, l'impatto sulla strada di grande comunicazione, tamponato un furgone. A Città Nova, bovini vaganti, proseguono le catture, il comitato Nobull ringrazia la task force, agricoltori liberi di riappropriarsi dei terreni e coltivarli. A Gioia Tauro, ennesimo furto consumato in città, nel merino dei ladri, il distributore di carburante del consigliere Polimeni, solidarietà espressa dall'amministrazione comunale, anche al circolo Marins. Vittimo di un atto vandalico, cresce la tensione a causa della delinquenza. Arrizzi con i post, domani riapre l'ufficio dopo il restyling. Siamo alle pagine di Gazzetta del Sud, vi ricordiamo che lunedì è poco lo spazio dedicato alla cronaca e all'attualità, perché è molto quello dedicato allo sport, anche nel periodo estivo. Titolo principale di Gazzetta, muore pure l'altro bambino, weekend tragico sulle strade, Simone, travolto dal Sud a Vittoria nel Racusano, con il cuginetto Alessio. Alessio, 12 giovani vittime in 24 ore, gravi due ragazzi, reggini. Una pagina che Gazzetta del Sud dedica alle condizioni del mare in Calabria, galleggiano schiuma, bollicine e chiazze marroni, da pizzo a nicotra, la stagione turistica comincia all'insegno dei vecchi disagi, ma c'è pure chi sostiene che a complicare le cose sia la fioritura delle alghe. A Paola, Tirreno, estate tra problemi e speranze, rispetto agli anni passati, si registra un miglioramento generale delle condizioni del mare dopo le segnalazioni dell'Arpacal, sono scattati dei vieti di bagnazione, alcuni già rimossi. Sullo Ionio funziona il protocollo dei PM e a fondo pagina erosione, Greco interroga la regione. Auto, tampona, furgone, feriti sei giovani, due gravi, incidente sulla Ionio Tirreno, i ragazzi stavano rientrando nella piana di Gioia Tauro dopo una serata nella Locride. E questa è la foto di ciò che rimane della macchina su cui viaggiavano i ragazzi della piana di Gioia Tauro. Ed era questa l'ultima notizia di oggi, viene a stampa, torna domattina alle 8.30, come sempre, subito dopo il caffè. A voi tutti da Lucio Rovinò, l'augurio di una buona giornata.